salve ragazzi questa volta vediamo come realizzare un altro oggetto apparentemente complesso in realtà veramente veramente semplice che mi è stato chiesto tra l'altro in qualche commento se non erro che è il cerchione il cerchio anzi un cerchio in lega per una ruota insomma che possa essere di automobile di moto piccola premessa non sono assolutamente un designer di cerchi quindi probabilmente il cerchio che farò non sarà dei più belli in assoluto però mi darà gli strumenti per crearvelo da voi insomma per poter poi fare quello che più vi aggrada insomma quindi faccio questa piccola premessa un po di maniavantismo perché quasi certamente qualche esperto di motociclismo di automobilismo mi potrebbe avere da ridire sul cerchio che sto per fare vabbè vando le ciance andiamo a vedere come si fa allora per creare questo oggetto utilizzeremo l'hettisply quindi creeremo una forma e lo faremo a partire da una forma cilindrica ok quindi creiamo un cilindro io lo faccio concentrico con l'origine per comodità e questo cilindro deve avere determinate proprietà allora innanzitutto il numero di facce diametrali deve essere pari al numero di razze che vogliamo per questo cerchio quindi adesso metto 7 per fare un esempio ovviamente poi vi potete divertire insomma a farlo come come più vi piace numero di altezze beh queste ci serviranno per creare la modellazione iniziale di massima io penso che va bene partire da 6 facce poi dopo vi faccio vedere che in corso d'opera è possibile andare a modificare anche questo numero di facce dobbiamo aggiungere il tipo di simmetria circolare vedete questo qui state attenti a non mettere mirror bensì circolare tra l'altro se mettete mirror vi chiede lungo quale direzione quindi non potete sbagliarvi quindi circolare e diamo ok questo tipo di simmetria circolare fa sì che ogni volta che adopereremo una modifica ad uno solo di questi pezzettini di queste entità geometriche che sono comprese tra due linee verdi si ripercuote ovviamente su tutto su tutto il resto quindi vedete anche se prendo questo oggetto lo sposto vedete si sposta anche quello ecco adesso vedete qui è successa questa cosa mi volevo farvi vedere state attenti quando fate questo tipo di modifiche nelle simmetrie circolari perché è fondamentale lo spazio delle coordinate che utilizzate vedete che se sposto questa faccia in questa direzione quello che succede si crea questa torsione ok che è giusta perché io sto spostando in una direzione che non è radiale ok quindi non segue il raggio del cilindro bensì sta seguendo tutt'altra direzione ok che è comunque la direzione particolare bene se facciamo tesoro di questo capiamo che è fondamentale adesso io annullo fondamentale utilizzare lo spazio di riferimento della selezione perché vedete se adesso mi sposto nel spazio di riferimento della selezione questa freccia qui assume una direzione radiale vedete e se la sposto vedete l'effetto che ho è nuovamente non dovrebbe essere così mi sono già accorto che in passato c'era questo c'era questa difficoltà con fusion allora vediamo un po se riusciamo a fargli fare quello che vogliamo purtroppo non dovrebbe essere così perché ovviamente lo spazio infatti non dovrebbe creare torsioni vedete sta facendo qualcosa che sembra difficile da controllare quando è così quando è così che non riusciamo a capire che cosa sta combinando fusion provate a disattivare la visualizzazione questa qui liscia e attivare la visualizzazione questa qui squadrata questa qui a lattice ok perché perché quelle frecce che abbiamo visto prima in realtà sono orientate seguendo queste facce vi ho detto più volte o forse magari vi è sfuggito che queste qui sono le facce che fungono da superfici di controllo per poter generare il solido vero e proprio che poi è questo qui ok pratica se lo vedete in questo modo è come se fossero tutti contro il point ok questi qui sono tutti contro il point che generano le varie spline che servono poi per disegnare la nostra superficie di spline beh ovviamente non possiamo metterci insomma a gestire questi contro point senza prescindere dalla spline che stiamo andando a disegnare però guardare solo la superficie di controllo ci darà sicuramente un'idea di massima di quello che potrebbe essere poi l'inviluppo della t spline definitiva quindi è un modo di progettare un modo di modellare sicuramente più consono bene adesso torno indietro voglio evitare insomma di aver aggiunto delle stranezze insomma all'oggetto che sto creando quindi ricreo faccio esattamente la stessa procedura di prima cilindro abbiamo detto sette razze sei diametrali e sei altezze sei facce in altezza e simmetria circolare perfetto come facciamo questa forma bene siccome avete visto che non è banale insomma non è immediato andare a modificare queste facce senza perdere l'assialità e quindi senza introdurre quella torsione abbiamo visto prima un metodo che vi consiglio per fare questa modifica è quella di lavorare sui edge innanzitutto e utilizzare questa scalatura scalatura 3d vedete in questo modo siamo sicuri che stiamo scalando a prescindere dallo spazio di coordinate stiamo scalando vedete nella direzione che ci interessa bene adesso vi faccio vedere un profilo che ho creato saremmo potuti partire tranquillamente da un profilo che ne so un profilo fatto come solito di rivoluzione senza problemi però mi piaceva l'idea di darvi questa modalità di modifica che è più visuale insomma più libera come vi dicevo lavoriamo con i box display per essere sicuri insomma che quello che stiamo facendo abbia una certa coerenza logica ok vedete sto procedendo traslando in questa direzione e scalando utilizzando questo comando ok molto molto semplice diciamo più o meno la prima parte mi piace come è venuta così ok più o meno potrebbe andare ok c'è una parte interna e per la parte interna allora innanzitutto cerchiamo di scalare il tutto vive andando a sovrapporci al foro questo qui di sopra anche se non c'è bisogno di essere precisi perché dopo vi farò vedere esiste un modo poi per allinearle questi due fori questi due fori perfetto dopodiché andiamo a creare per selezionare tutta la circonferenza basta fare doppio clic su uno solo degli edge ok quindi vedete doppio clic si seleziona tutta la circonferenza andiamo quindi a fare anche quest'altra scalatura ci spostiamo verso l'interno ovviamente adesso io sto dando una forma che poi successivamente posso andare a modificare ecco qua diciamo che così lo meno mi sembra poi dopo andremo ad aggiungere tutta una serie di dettagli ovviamente ok perfetto diciamo che così più o meno già potrebbe andare bene va bene perfetto quali sono i dettagli che mancano beh innanzitutto questo va in spessi scusate sbagliato freccia questo va in spessito qui va creato l'incavo naturalmente dove poi bisogna alloggiare la gomma giusto beh lo possiamo fare in tantissimi modi io però preferisco innanzitutto dare uno spessore vedete che qui non c'è spessore neanche qui di fatti questo è proprio uno spigolo così come anche qui non c'è uno spessore giusto bene lo possiamo fare questo spessore possiamo creare per esempio partiamo da qui andando a scalare tenendo premuto il tasto alto sulla tastiera vedete che vi appare una nuova faccia il tasto alt serve per l'appunto per aggiungere nuove facce al nostro nostro oggetto allo stesso modo per poter fare la stessa cosa qui quindi per poter accedere scusatemi creare uno spessore quindi una faccia aggiuntiva nella direzione per esempio radiale che sia uguale qui qui che cosa facciamo selezioniamo tutte queste facce vedete ok e sempre scalando e tenendo premuto il tasto alt procediamo in questo modo vedete si è creata una faccia nella direzione radiale vedete questa qui questa faccia qui e anche sotto ovviamente fatto questo magari la scaliamo un poco in altezza perché ci rendiamo conto che avendola fatta in quel modo in realtà torno indietro perché la cosa più intelligente in realtà qui da fare per fare una scalatura fatta fatta bene e scalare su questo piano guardate adesso vi faccio vedere su questo piano qui la scalatura su questo piano la si ottiene facendo questo utilizzando questo modificatore qui ok quindi tenendo premuto alto sulla tastiera scaliamo su quel piano così siamo sicuri che qui abbiamo lasciato questa faccia piatta ok qui e qui fatto ciò adesso continuo a scalare tenendo il tasto premuto alt in questa direzione e faccio apparire vedete queste nuove facce e ne faccio anche altre state attenti questa operazione è concettualmente diversa dal inserire legge come si poteva fare qui perché inserire legge altera la topologia della nostra maglia che studisce il nostro oggetto t spline mentre invece io voglio che la topologia resti la stessa per non perdere soprattutto la simmetria circolare e l'aggiunta di facce fatto in questo modo come ho fatto vedere quindi tenendo premuto il tasto alt e muovendo le facce crea una regolarità nella nostra diciamo la nostra mappa topologica della nostra griglia molto più molto più stringente quindi vi consiglio di procedere in questo modo bene fatto ciò adesso senza usare più alte inizia a dare un po una forma al mio oggetto vedete sto scavando verso l'interno in questo modo qui scalo in questo modo diciamo che più o meno così già va bene perfetto che cosa manca manca il foro per fare la razza vera e proprio quindi seleziono una faccia questa volta mi metto nel sistema di coordinate vedete della faccia scalo utilizzando questa scalatura sulla faccia tenendo il tasto alt ok vedete vi è apparsa questa si chiama in gergo quando si parla di mesh grid si chiama o grid perché una griglia ad o vedete è una cella circondata da altre quattro celle perfetto quindi abbiamo fatto questo questa cella dentro la facciamo anche da quest'altro lato quindi anche qui procediamo creando questa sorta di o grid con il tasto alt mi raccomando vedete anche qui tenuto uguale e adesso facciamo una cosa un po pazza selezioniamo questa faccia la cancelliamo col tasto cancel sulla tastiera anche qui vedete abbiamo aperto vedete dentro c'è un po qualcosa si vede che c'è qualcosa da sistemare perché il lato omologo di questo sta qui giù e quindi mi sa che forse dobbiamo aggiustarlo e beh facciamolo cerchiamo di allineare il più possibile ok le facce di sopra con le facce di sotto lo facciamo in questo modo ci mettiamo in questa vista abbiamo sempre con lo strumento edit for selezioniamo questa volta gli edge andiamo nello spazio world se non vi permette di selezionare tutti gli edge direttamente con doppio clic purtroppo non potete fare altro che selezionarli con il control li selezioniamo tutti questo purtroppo succede quando iniziamo ad aggiungere tante facce e adesso scaliamo ok vedete in questo modo faccio la stessa cosa qui guardate il fatto di selezionarli tutti ci occorre per poter essere certi che scaliamo rispetto al centro qui ok mi raccomando ecco qua abbiamo aperto un po mi sembra un po pochettino meglio magari qui al contrario dobbiamo chiudere un po questa parte qui un po troppo aperta quindi facciamo in questo modo ok è lo stesso facciamo con questo scavo sempre rispetto a questo piano perfetto mi sembra che più o meno ci siamo possiamo anche procedere in questo modo andiamo nello spazio delle coordinate dell'edge vedete che questo qui è lo spazio delle coordinate della selezione possiamo spostare l'edge nella sua direzione radiale in questo modo molto più pratico e per esempio vedete sto procedendo in modo molto molto immediato bene diciamo che più o meno ecco forse qui lo spessore è un po poco quindi possiamo per esempio abbassare un po questo edge questo lo facciamo nel sistema globale ok vedete sto guardando lo spessore da questo punto di vista vedete io cambio continuamente lo spazio delle coordinate in funzione di quello che mi occorre se lo devo spostare nella direzione z mi serve naturalmente lo spazio delle coordinate world ok se devo spostarmi invece nella direzione normale all'edge mi metto nello spazio delle coordinate dell'edge quindi vedete spesso le persone mi chiedono ma come fai a decidere qual è lo spazio delle coordinate dove andare a lavorare beh dipende da questo insomma dipende dallo spostamento che devo fare e beh secondo me già così potrebbe andare bene dallo stesso modo per esempio questo qui voglio spostare questo edge vedete che questa qui è la sua direzione radiale quindi se faccio in questo modo sto facendo la modifica che mi serve perfetto una volta che abbiamo sistemato il nostro oggetto più o meno in questo modo che cosa dobbiamo fare? dobbiamo chiudere i tappi cioè dobbiamo tappare i buchi ok nello specifico dobbiamo far sì che questo edge corrisponda a questo che questo edge corrisponda al suo omologo che sta sotto vedete? e fortunatamente in più abbiamo lo strumento che fa proprio a casa nostra che è il bridge il ponte vedete qui bisogna fare due set di selezioni allora la prima la facciamo in questo modo facendo doppio clic la seconda facendo doppio clic sotto ignorate il warning che vi sta apparendo per il momento date ok vedete che vi ha fatto apparire queste facce vedete? queste qui di chiusura le vedete? tra la parte di sopra e la parte di sotto visto? perfetto come l'abbiamo fatto lì ovviamente lo faremo anche per questo foro vedete? siamo riusciti ad ottenere la chiusura adesso io farò ancora dei piccoli aggiusti perché vedete qui insomma la razza ha preso una forma un po' particolare in realtà potrebbe anche sembrare potrebbe anche essere più carina insomma da vedere perché c'è questa torsione che potrebbe essere simpatica però possiamo comunque effettuare dei piccoli aggiusti vedete come si procede in modo molto immediato ogni tanto controllate vedete se succede quello che è successo a me qui si è creata una torsione nella razza quindi in realtà devo tornare indietro questo purtroppo perché c'è sempre un po' di confusione nelle parti di fusion quando si tratta di fare gli spostamenti nelle direzioni nelle direzioni del corpo diciamo che così l'oggetto più o meno sembra finito adesso vediamo che cosa abbiamo realizzato clicchiamo qui andiamo su smooth display e vediamo il nostro cerchione che abbiamo realizzato ci sono delle cose da sistemare indubbiamente ad esempio sicuramente questo spigolo qui deve essere vivo così come questo non può certamente rimanere fatto in questo modo quindi andiamo in modify crease per aggiungere lo spigolo e selezioniamo anche uno solo di questi due spigoli e abbiamo aggiunto uno spigolo vivo vedete adesso questo spigolo qui è vivo perfetto allo stesso modo vogliamo ad esempio stringere verso il centro questa parte bene basta selezionare adesso possiamo lavorare anche direttamente nella visualizzazione smooth però possiamo selezionare per esempio questo cerchio e selezionando sempre tutti i pezzettini per far sì che il centro di zoom scusate il centro di scala sia al centro andiamo a lavorare in questo modo vedete vedete quindi in questo modo potete dare al vostro vostro cerchione l'aspetto che volete e adesso voglio pure un po' giocare questa parte esterna ok ok no questo non volevo toccare era questo qui che volevo spostare insomma avete capito il criterio che si adotta qual è sono 7 perfetto ovviamente potete verificare dal numero se la selezione che state facendo è quella giusta ecco qua volevo aprire un po' la parte interna perfetto sicuramente ci sarà bisogno di un altro spigolo vivo che è questo qui che è scomparso del tutto vedete quindi andiamo in crease mettiamo il crease anche qui questo magari questa faccia qui la spostiamo un po' più verso il basso diciamo meno pronunciato perfetto e infine ci sarebbe da ah qui manca ovviamente anche da quest'altro altro il crease che altrimenti non abbiamo proprio il mozzo andiamo quindi a creare il crease anche dall'altro lato eccolo qua ci sarebbe da sistemare una piccola cosa è successo qualcosa qui presumo che manchi un dettaglio eh sì probabilmente sì qui se aggiungiamo il crease vedete se aggiungiamo il crease anche qui quando va a determinare lo smooth ah no ecco qua era un errore vabbè era un errore del software come sempre allora dicevo se vedete qui c'è questa forma un po' trapezoidale che non va bene ve la faccio vedere meglio nel piano di sezione vedete che qui è certo se fosse un mozzo vero insomma questo non dovrebbe essere fatto così come si fa ad allineare quindi tutte queste superfici abbiamo fortunatamente sempre in future gli strumenti adatti allora innanzitutto andiamo a selezionare la prima cosa che vi chiedo di fare è selezionare tutte queste facce che vogliamo raddrizzare ok selezionate le facce mi raccomando non gli edge dopodiché andate nel comando straighten quindi raddrizza e vedete qui i vertici delle t-spline da raddrizzare sono state già selezionati perché abbiamo selezionato le facce prima ok qui mettete select parallel line e come linea parallela da allineare utilizziamo proprio l'asse z ok quindi questo qui vedete che si sono allineati anche se magari si vede poco adesso lo vediamo nel piano di sezione vedete li abbiamo perfettamente allineati vedete questo è un metodo pratico insomma per poter allineare quegli spigoli va bene perfetto se ci piace insomma questo oggetto possiamo chiudere il t-spline ed ecco qua il nostro cerchione ripeto sicuramente sarete più bravi di me a farne di carini ovviamente se vogliamo dargli anche un aspetto più insomma più carino proprio per l'effetto insomma della resa possiamo vedere sfruttare la libreria dei materiali di Fusion ci sono questi qua cromati che sono molto molto belli vedete ed ecco fatto perfetto quindi abbiamo visto che con le t-spline e sfruttando le simmetrie circolari è possibile creare dei cerchioni con un numero di razze che decideremo ovviamente in modo del tutto arbitrario in maniera veramente veramente semplice ed immediato le t-spline inoltre ci abilitano a fare un tipo di lavorazione che è come dire molto libera in cui possiamo dare sfogo al nostro estro quindi è particolarmente indicato la t-spline è particolarmente indicata per poter fare questo tipo di lavorazione bene io vi ringrazio nuovamente per avermi seguito spero che questa lezione vi sia piaciuta e come sempre vi invito a iscrivervi al mio canale se vi è piaciuto questo video e di attivare la campanellina per ricevere gli aggiornamenti sui prossimi tutorial grazie a tutti per l'attenzione grazie a tutti